Il futuro della rosa bianco-verde passerà ovviamente dalle riflessioni di mister e direttore sportivo. Se per questa seconda figura la strada sembra tracciata con Ernesto Salvini in pole position in attesa di liberarsi dal Siena, per il tecnico saranno giorni importantissime e sicuramente di confronti. I calciatori, come ormai noto, saranno 29 e da qui si procederà ad uscite ed entrate. A proposito della rosa dei lupi, una buona base dalla quale ripartire ci sarebbe. Le scelte saranno effettuate sulle qualità, dapprima morali e successivamente tecniche. Nella sciagurata stagione appena conclusa si diversi calciatori hanno superato le 30 presenze. Parliamo di Fabio Tito, tra i pochissimi, ed avere un buon rendimento costante con 34 partite. Lo stesso numero registrato da Marcello Trotta, dal quale ci si aspettava certamente di più. 34 gettoni per Raffaele Russo e Diego Gambale. L'ex Montevarchi però andrà via, mentre il numero 10 bianco-verde tornerà ad ottobre nella più rosea delle previsioni. 35 le presenze per Lorenzo Moretti, con un rendimento inizialmente molto positivo, salvo poi calare nel girone di ritorno. Mentre il recordman quest'anno è stato Federico Casarini, con ben 37 partite all'attivo. 31 le presenze per Rizzo, 30 per Matera ed Auriletto. Chiaro che il reparto difensivo sarà quello maggiormente indiziato ad essere rinforzato, puntellando magari centrocampo ed attacco. Tanto dipenderà dal mister e dal modulo e sarà interessante anche valutare gli arrivi di gennaio con un ritiro nelle gambe e l'inizio della stagione insieme alla squadra. D'Angelo ha giocato sempre. 16 le presenze, tranne per i due turni di squalifica, realizzando tre gol, seppure in una condizione fisica non ottimale. Stesso discorso per Marconi. 14 gettoni dal primo di febbraio, 4 le reti, tanto impegno ma pochissime occasioni da rete servite. Insomma, per il nuovo percorso tecnico a Biancoverde ci sarà un bel lavoro da fare, ma potrebbe non essere tutto da buttare. D'altronde un'altra rivoluzione farebbe molto male a Lavellino e la voglia di rivalza di chi ha fatto male potrebbe già essere un buon punto di partenza.